Buongiorno a tutti, sono il dottor Giusto Villino dell'AS CN2. Il mio ruolo è quello di direttore della struttura complessa di nefrologia e direttore del dipartimento di area medica all'ospedale Pietro Michele Ferrero di Verduno. Il progetto Biocare nasce nel 2020 nell'AS CN2 di Cuneo. È un ASL di circa 1000 km2 e comprende 76 comuni con circa 170.000 abitanti. L'esigenza di questo software nasce da due situazioni. Nel nostro divisione dal 2016 è attivo un ambulatorio per la presa in carico dei pazienti con malattia renale cronica avanzata dal nome Marea. L'ambulatorio è stato previsto da un decreto regionale attraverso un PDTA terapeutico assistenziale che consente appunto di seguire questi pazienti cronici. Fino ad oggi l'ambulatorio è stato condotto in presenza, ma diciamo dal 2020 è stato avviato un progetto di integrazione con strumenti di telemedicina. Il secondo motivo è la pandemia che ha sollevato l'esigenza di verificare la negatività dei pazienti che devono accedere regolarmente in ospedale per sottoporsi all'emodialisi e anche di effettuare controlli periodici su pazienti positivi al Covid in isolamento domiciliare. Il sistema funziona attraverso la raccolta di parametri clinici grazie a questionari che sono inviati con sms al paziente o al cardivore. Il questionario viene erogato attraverso un link, il paziente o al cardivore ha un intervallo di tempo predefinito per compilare il questionario che potete vedere nell'immagine qui a destra. La frequenza di invio degli sms e il contenuto del questionario sono personalizzabili in base alla patologia e alle indicazioni fornite dai medici. Il personale infermieristico si occupa di educare i pazienti all'utilizzo del sistema. Una volta che i dati sono stati inviati sono raccolti e organizzati in un database che vedete rappresentato qui nella diapositiva e che ne consente una visualizzazione sintetica attraverso un dashboard. Ogni rilevazione è una cella di questo foglio e assume colori diversi. I colori consentono di visualizzare in modo rapido e intuitivo la situazione dei pazienti monitorati. Poi la piattaforma consente al medico, cliccando sul singolo paziente, di analizzare nel dettaglio i dati sia in modalità tabellare, l'immagine sopra, sia in modalità grafica, l'immagine sotto. Il medico alla fine può procedere alla validazione dei dati riportati utilizzando anche uno specifico campo note in cui può riportare e scrivere la valutazione dei parametri analizzati. Il progetto è stato implementato su tre principali target di pazienti. Il primo è i pazienti positivi al covid in isolamento domiciliare con gravità media. Da maggio 2020 a febbraio 2021 sono stati seguiti 121 pazienti e sono stati inviati circa 5200 questionari. Il secondo gruppo riguarda pazienti in emodialisi ambulatoriale ospedaliera e i questionarii erano inviati per effettuare il pretriage in ambito covid. In questo caso la copertura dei pazienti dializzati è stata buona perché ha raggiunto l'80-85%. Terzo gruppo i pazienti ipertesi con malattia renale cronica avanzata, marea come dicevamo prima. Dal novembre 2020 a febbraio 2021 sono stati presi in carico circa 96 pazienti con 1600 questionari inviati. Prossimi sviluppi di applicazione futuri è prevista la possibilità di utilizzare lo stesso sistema per la gestione di altre patologie croniche come scompenso cardiaco, BPCO, per la gestione di questionarii di autovalutazione nell'ambito delle cefalee e infine per il pretriage covid delle donne all'ultimo mese di gravidanza. Si predede infine di utilizzare la piattaforma anche a fini gestionali per monitorare l'inventario delle scorte di materiale nei pazienti in viaggi peritoneale e in nutrizione parenterale domiciliare. I risultati principali ottenuti sono la riduzione del carico di lavoro sanitario per la raccolta dei dati, la semplicità di utilizzo della soluzione che non richiede particolari competenze specifiche, il miglioramento e l'ottimizzazione del percorso di follow-up anche attraverso la condivisione dei dati tra più specialisti, la maggiore consapevolezza del paziente cardiaco della propria malattia, il miglioramento della compliance rispetto alla registrazione dei parametri e delle prescrizioni e il maggior senso di risicurezza percepito dai pazienti nella gestione della patologia. Grazie per la vostra attenzione.